Un giorno ricorderò tutto quello che è successo, il bene, il male, quelli che sono sopravvissuti e quelli che non lo sono. Il mondo avanti, le strade da seguire tante, nell'ombra il mio viaggio va, finché luce nel cielo sarà, nebbia e ombra. Avrete pace o guerra? Tutto svanirà. Io avrò guerra. Tutto svanirà. Mi seguirete? Un'ultima volta. Un'ultima volta. In Shazam. Notizie attendibili però su questa pellicola le avremo solo al Comic Con. Shazam uscirà nelle sale nel 2016 e sarà diretto da Peter Segal. A presto con nuove news. Ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.